Tengo, venite qua, tutti, fatevi vedere e poi ci prepariamo per le tanzi. Ci abbiamo anche la presidenza dei tamburi, abbiamo un'altra regina che è donna bianca, ma adesso saranno loro a descrivere un po' la loro attività. Ecco qua il nostro Claudio, responsabile del gruppo appunto di Randazzo. Claudio, attengono. Buonasera, io siamo la Cimbra della Lorenza di Randazzo. E' da 29 anni che abbiamo, diciamo, questa associazione, facciamo una rivoluzione storica, scusate, nel 1405. Ripeto, rappresentiamo la regina Cane di prima marla perché ha soggiornato per tre giorni nel nostro palazzo reale di Randazzo. Ogni fine anno, luglio, scusate, ogni luglio, l'ultima settimana del mese facciamo la festa ai Mediaguali. Quindi vi vinto appunto nel 2024 il miglior d'andazzo. Grazie al nostro presidente storico, a federazione storica siciliana e grazie a Erci. Grazie per i lavori. Adesso noi ci faranno il legato di tre danze. Tre danze. Tre danze negli anni molto belle e particolari. Grazie.